Musica Sarà Unicredit il nuovo sponsor del Teatro San Carlo di Napoli per la stagione 2022-2023 una collaborazione nel segno della crescita culturale e sociale del territorio che consentirà al lirico partenopeo di offrire al pubblico un ricco programma di appuntamenti 12 titoli d'opera, 5 nuove produzioni, 5 balletti, 17 concerti, la seconda edizione del festival pianistico e della stagione cameristica e 4 tournei internazionali I paesi e i governi dell'Europa hanno difficoltà a sostenere la cultura che per me è un errore perché la cultura come la salute, come la ricerca è una necessità La gente compra i libri, va nel museo, va al teatro, sentire i concerti quindi è una necessità C'è un progetto ambizioso e loro vogliono essere legati a questo progetto ambizioso Crediamo fermamente che la cultura contribuisca in maniera significativa all'arricchimento dei territori Il primo vero sostegno di una banca al mezzogiorno, in questo senso al mezzogiorno e alla città di Napoli Io credo che questo sia quello che noi dobbiamo e vogliamo sottolineare Un impegno che tra l'altro per Unicredit è cominciato con la creazione del Tecno Hub di San Giovanni a Teduccio del 2021 La banca si impegna inoltre a sostenere i progetti di formazione artistica che il San Carlo promuove per i giovani di diversi quartieri di Napoli attraverso i laboratori creativi di musica, spettacolo, teatro, fotografia delle officine di Villena È molto importante in questo rapporto il sostegno alle attività che vengono svolte a Villena che sono attività di formazione, di inclusione, di valorizzazione della creatività della nostra città e questo è uno dei punti in cui io credo molto e l'interesse di Unicredit testimonia la capacità attrattiva di una Napoli molto competitiva, molto internazionale quella strada che noi dobbiamo percorrere Dalla sinergia pubblico-privato che vede insieme Unicredit e il San Carlo e con le associazioni del terzo settore prenderanno il via presso le officine a Napoli Est anche corsi gratuiti aperti alla comunità di attività sociali e formative destinate alle scuole e progetti di inserimento professionale per i più giovani legati alle arti e ai mestieri dello spettacolo I ragazzi un po' da sempre fanno tirocini presso il San Carlo In questo caso la collaborazione diventa più forte perché faremo proprio dei progetti concreti di formazione nelle officine del San Carlo Ne siamo orgogliosi, fieri e siamo sempre pronti a partecipare in questo tipo di operazioni Grazie a tutti